è davvero come ce lo raccontano salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui a provare finalmente il dji avatar questo drone di case dji questo cinewhip che appena arrivato da case dji finalmente ho anch'io fra le mie mani questo piccolo drone piccolo in realtà pensavo fosse più piccolo comunque questo drone che pesa poco più di 400 grammi e che ha ovviamente come caratteristica principale il volo in fpv chi mi segue sul canale sa che io sono un super fan del dji fpv è un drone che adoro in maniera incredibile infatti continua a pubblicare un sacco di video in cui lo faccio volare in location pazzesca soprattutto facendolo arrampicare su per le montagne ma adesso è arrivato il momento di provare lui dji avata ovviamente non c'entra niente con dj fpv dal punto di vista della tipologia del drone qua abbiamo un drone sicuramente molto meno performante dal punto di vista delle prestazioni giustamente perché lui in cinewhip quindi come dice il nome fatto apposta per fare riprese soprattutto in location e in posti dove con un dj fpv sarebbe improponibile o molto pericoloso sia per danneggiare il drone che quello che ci sta intorno quindi lui dovrebbe avere prestazioni molto più dolce di da gestire rispetto a dj fpv infatti sono venuto a provarlo in questo bosco dove normalmente vengo quando ho provato tutti i miei cinewhip classici fpv quali autocostruiti li ho portati tutti in questa location perché qui tra gli alberi i rami le piante si può capire il comportamento del drone a livello di precisione e soprattutto quanto si riesce a spingere il drone magari vicino agli ostacoli ovviamente lui mette più soggezione perché un auto costruito soprattutto cinewhip non ci dà tanti problemi nel caso dovessimo andare a sbattere è veramente difficile andarlo a rovinare se nel caso però rovinassimo qualcosa con pochi euro andiamo a sostituire le parti danneggiate mentre con lui si è vero è tutto coperto ma un po' di soggezione ce la mette e ragazzi questo sarà il mio primo volo quindi non l'ho provato perché ci tenevo appunto a trasmettervi live le mie sensazioni quindi senza averlo ha mai adoperato le mie sensazioni appena tirato fuori dalla scatola caricate le batterie e pronti via ovviamente volerò con il controller non con il motion controller li ho entrambi perché entrambi ovviamente sono utilizzabili con dj fpv che già avevo infatti lui ho comprato solo il drone anche per quanto riguarda gli occhiali userò quelli che già erano inclusi nel dj fpv non gli ultimi arrivati i goggles 2 quindi questi sono gli attrezzi che useremo oggi lui no perché secondo me il motion controller si è un oggetto da wow per quanto riguarda l'idea di pilotare un drone con il polso e con la mano ma non è quello che poi in realtà serve ad un pilota di droni per compilato i droni usa uno come questo e poi un drone come questo che sicuramente ci può far avvicinare al volo in acro avendo i vari passaggi normal sport e manual che poi sarebbe il classico acro quindi il drone totalmente nelle nostre mani poi abbiamo anche due possibilità se vogliamo di acro perché abbiamo la possibilità manual ma all'interno della possibilità manual c'è la possibilità di andare a sbloccare quanto andare a sbloccare l'inclinazione del drone quindi il drone non avrà limiti di inclinazione quindi una possibilità di crescere anche all'interno della modalità acro anche il dj fpv aveva queste possibilità però partivamo e partiamo da un drone molto performante dal punto di vista delle prestazioni che a fare avvicinare quel drone a chi non ha mai pilotato in acro è sicuramente un po più complesso anche se avevamo le possibilità di normal sport e la doppia possibilità acro con appunto l'inclinazione limitata e poi l'inclinazione illimitata comunque nella versione completa di 1400 euro con gli ultimi visori e tutto dj doveva o dare entrambi o dare questo però probabilmente di questi di motion controller dj ne aveva in giro tantissimi perché alla fine nel dj fpv l'hanno comprato in pochi questo motion controller poi anche il drone stesso non ha avuto un successo perché comunque molto complicato per tanti aspetti questo motion control probabilmente dj ne aveva un magazzino pieno ha deciso di darlo in abbinamento a questo drone però sicuramente ragazzi è questo quello che va utilizzato perché utilizzare in motion control in modalità normale sport ok si può utilizzare va bene anche se alla fine non si impara perché comunque i droni ragazzi poi qualsiasi drone utilizziamo ha sempre un controller così ma utilizzare le modalità acro che poi è quello che bisogna arrivare a fare con un drone di questo tipo col motion control anche no bisogna utilizzare lui quindi questa mossa di dj ai in cui in una spesa così importante che io considero troppo importante per un drone cine whoop perché comunque un cine whoop è molto limitante in certe situazioni di utilizzo è per il rumore che fa perché è rumorosissimo tutti i cine whoop lo sono perché queste paratie creano queste turbolenze che fanno veramente tanto rumore e quindi la spesa di 1400 euro la trovo veramente troppo importante per questa tipologia di drone però questa è la mia opinione mentre per chi ha già tutto come nel mio caso controller visore acquistare solo il drone potrebbe avere allora già più senso che si sfrutta comunque un'attrezzatura che già si ha la si sfrutta doppiamente perché si utilizza con djfpv la si utilizza con lui e allora è un ottimizzare sfruttare qualcosa che già sia quindi lo proverò all'inizio in modalità normal poi passare in modalità acro ovviamente l'ho già sbloccato è lo sbloccato nella versione con la più estrema quindi con l'inclinazione illimitata senza limiti di inclinazione quindi modalità normal in modalità normal per avviare il drone una volta che si connette al controller al visore basta tirare gli stick verso l'esterno entrambi e avviamo i motori e diamo gas eccolo qua dj avata sta in modalità normal e vediamo il suo comportamento poi lo metteremo in modalità acro e vi dirò le mie sensazioni appunto anche in modalità acro che è la modalità che ovviamente poi mi interessa di più quindi abbassiamo il visore e iniziamo a girare qua tra le piante grazie a tutti scusate il silenzio ma ero concentrato nel cercare di capire il comportamento del drone perché è ovviamente come vi ho detto la prima volta quindi ci tenevo proprio a capire le prime sensazioni devo dire che sono ottimi ragazzi così sono in modalità normal quindi quella più semplice quella per principianti ma il drone ragazzi è fantastico perché comunque si muove sempre in maniera fluida mentre dj fpv in modalità normal era comunque brusco perché frenava in maniera brusca brusca quindi un drone che utilizzato in quella modalità non era semplicissimo comunque da utilizzare questo ragazzi è tutta un'altra storia cioè guardate qua dove sto passando e cioè avete visto dove sono passato e con che fluidità sono riuscito a passare lì in mezzo è fantastico ci dà la possibilità di pensare ovviamente perché comunque essendo in modalità normale il drone è stabilizzato in altezza quindi ci dà la possibilità di ragionare diciamo prima di fare qualcosa andando in maniera lenta ma soprattutto tenendo la quota e la traiettoria in una maniera incredibile cioè è spettacolare davvero è cioè ci permette di fare veramente cose incredibili in modalità normal pazzesco pazzesco ragazzi ovviamente però con il controller secondo me con il motion controller anche no cioè vedete qua io passo però posso fermarmi ragionare e capire dove passare cioè guardate dove sono passato in questo momento devo dire che è incredibile modalità normal ci permette di fare cose veramente assurde adesso proverò ad utilizzare modalità acro e vedere come si comporta e se mi dà la stessa sensazione diciamo di sicurezza che ho in questo momento che è qualcosa di allucinante devo dire tanta tanta roba adesso mi fermo qua un attimo qua ok eccolo qua ragazzi è incredibile penso che abbiate visto dove sono passato una cosa fuori di testa e senza praticamente quasi mai fermarmi sempre in movimento veramente veramente fantastico adesso direi adesso direi di provare ad utilizzarlo in manual perché devo andare a riallentare la molla del controller quindi e vado a avvitare la brugola quella con scritto f2 che prima invece ho allentato quindi una volta avvitato adesso lo stick si muove su e giù senza avere la molla con l'altra brugola quella f1 possiamo andare a indurire o ammorbidire la sensazione dello stick non avrà comunque la molla ma potremmo decidere noi quanto avere duro lo stick in base alla nostra sensibilità e la nostra esigenza e ricordatevi sempre che qua abbiamo il tasto pausa quindi qualsiasi cosa succeda indipendentemente dalla modalità in cui noi siamo schiacciando il tasto pausa lui si stabilizza e si ferma ed è una cosa fighissima soprattutto se usato in acro in cui magari andiamo a perdere un po' il senso di quello che stiamo facendo o entriamo un po' in uno stato di panico perché siamo in una situazione un po' critica tasto pausa e tac e anche per farlo atterrare ragazzi io anche DJ FPV me lo faccio venire vicino quando sono a una determinata distanza che so che è lì vicino a me tasto pausa e lo faccio atterrare in scioltezza senza fare atterraggi magari critici dove potremmo andare a danneggiarlo e questo è veramente veramente figo allora quindi detto questo vado a riaccendere il DJI Avata perfetto tutto connesso quindi lui si accende sempre in normal vado a metterlo in manual per avviare i motori quando siamo in manual dobbiamo fare doppio clic su questo tasto e andiamo ad accendere i motori con un altro doppio clic andiamo a spegnerli quindi non dobbiamo utilizzare gli stick come quando siamo in modalità normal o sport quindi vado ad avviare i motori e diamo gas la partenza è stata critica perché veramente va fortissimo madonna come va forte aspettate che adesso lo recupero sono partito troppo deciso sono partito come se ero in modalità normal quindi mi è partito cattivissimo ok l'abbiamo recuperato quale le prestazioni aumentano in maniera esagerata se lo mettiamo in acro quindi veramente diventa super super aggressivo nelle prestazioni anche perché oggi come vi ho detto è il suo primo volo e anche il mio primo volo bisogna ovviamente dosare molto il gas il primo passaggio in un punto un post più stretto di dove sono passato prima l'abbiamo fatto quindi sto iniziando a prenderci un po la mano perché comunque ragazzi spinge non pensavo ma spinge di brutto se si dà gas cerchiamo un altro passaggio stretto ok proviamo a passare in mezzo a queste prendiamo bene la mira e voilà ovviamente qua c'è da prendere bene le misure con gli stick perché è tutta un'altra cosa che ovviamente pilotarlo in normal dove è il drone è lento e stabilissimo qua la stabilità gliela dobbiamo dare noi ma possiamo fare ovviamente qualcosa di più allora proviamo entrare da qua wow avete visto dove sono passato fantastico pazzesco pazzesco pensavo ci fosse più spazio dietro alle piante o meglio ai tronchi invece mi sono trovato davanti tutte le foglie è stato davvero incredibile cose che ti lasciano sempre un po di quella roba perché dici cacchio ho fatto il danno invece no pazzesco è stato pazzesco allora proviamo a passare di qua wow questo era difficile perché i due rami ovviamente non erano allineati quindi ce n'era uno più spostato uno meno spostato dove cacchio sto andando parlare e pilotare veramente ogni tanto vado in crisi perché il mio cervello due cose così non riesce a fare proviamo a passare in questo passaggio stretto dove prima sono passato ahia ho toccato il tronco in modalità norma non l'avevo toccato passiamo da qua un po lo più largo rispetto dove siamo passati adesso perfetto rifacciamo il passaggio che ho appena sbagliato e wow adesso siamo passati perfetti eh che vediamo di trovare un altro bel passaggio proviamo a passare di qua avete visto come tiene la linea è pazzesco veramente è ottimo 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 è incredibilmente ottimo direi sono curioso di vedere le immagini a casa con la stabilizzazione rocksteady perché comunque nel visore che non c'è stabilizzazione le immagini sono stabilissime veramente DJI ha fatto un lavoro pazzesco nel quello che è proprio il drone in sé che anche senza la stabilizzazione che non abbiamo nel visore ovviamente abbiamo un risultato che è incredibile che adesso è andato giù il sole ci sono delle aree un po scure quindi faccio fatica a vedere i rami quelli molto piccoli cioè guardate qua cioè fantastico è fantastico una volta che si prende sulla mano in modalità manual quindi acro se vogliamo è fantastico adesso proviamo a spingerlo un po a vedere come si comporta a spingerlo un po vediamo là ok torniamo indietro di qua di qua di qua di qua e anche a spingere ragazzi è bello è cacchio se bello fantastico anche a dagli di gas e vediamo qua e vengo a farlo atterrare e farlo atterrare il contrario degli altri droni ragazzi lo prendete da sopra togliete gas e voilà il gioco è fatto ok ragazzi allora cosa sono le mie considerazioni di questo DJI Avata che è pazzesco secondo me DJI qua ha fatto un lavoro incredibile un drone che vola in maniera sicura avete visto anche in modalità acro ed era la prima volta che lo utilizzavo quindi non avevo né la sensibilità né sapevo le reazioni bene del drone con gli stick cioè veramente era la prima volta che lo utilizzavo e avete visto come subito ho fatto dei passaggi non semplicissimi in modalità normal pazzesco nel senso che chiunque lo può utilizzare perché ci dà la possibilità comunque di fare riprese video continue senza essere interrotte comunque lui vola morbido quindi sebbene non ha un gimbal stabilizzato ma una stabilizzazione elettronica ma con questo movimento fluido che ha rende il drone e i video secondo me pazzeschi e poi avete visto in modalità normal che passaggio che ho fatto perché ed era la prima volta che lo utilizzavo anche se ovviamente il mio scopo è utilizzarlo in acro anche se in acro quando sono partito la prima volta ho esagerato col gas e me lo sono trovato là in un attimo poi l'ho ripreso e tutto a posto rimango del parere che 1400 euro per un cine whoop e rimangono davvero davvero tanti perché comunque il cine whoop ha dei limiti di utilizzo rispetto ad altri droni però preso come ho fatto io solo drone avendo già tutto il resto dell'attrezzatura secondo me è un gran gran bel drone complimenti ai DJI perché ha tirato fuori un prodotto pazzesco se dovesse arrivare a fare il DJI FPV 249 grammi con queste caratteristiche di volo con questa diciamo fluidità di volo con questa stabilizzazione di volo ragazzi e quindi anche ovviamente poi che si ripercuote nel video sarà un drone che spaccherà in maniera incredibile quindi ragazzi queste sono le mie prime impressioni ovviamente prossimamente lo vedrete sul canale sotto tanti altri aspetti ma oggi è stato proprio il mio primo volo quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia prima prova di lui il cine whoop DJI Avata è ben piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità spoiler presto arriveranno anche i filtri della Freewell da provare per questo drone che sicuramente gli daranno un plus in più per quanto riguarda la qualità e il risultato finale dal punto di vista dei video e sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto altissimi cupo sconto riguardanti i drone e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità ciao e al prossimo video ciao